Tra gli ortaggi più richiesti per un video cucino senza sprechi c'era il sedano e ora, che è finalmente iniziata la stagione, non posso che rispondere alla vostra richiesta. A proposito di stagioni, per chi fosse interessato, è uscito sul mio sito il calendario dei prodotti di stagione, ittici e ortofrutticoli. Vi lascio il link nella descrizione del video e andate a dare un'occhiata. Parlavamo di sedano, un ortaggio da sempre considerato povero, ideale solo per il brodo, ma in realtà ricchissimo, di nutrienti e di tantissime altre cose. Prima di iniziare però ricordatevi di iscrivervi al canale e non perdete gli altri video della rubrica Cucino senza sprechi. Il sedano è una pianta spontanea, oggi la varietà che compriamo è, tra virgolette, addomesticata, ma esiste anche quella selvatica. Per via del suo bassissimo apporto calorico è una delle verdure più consumate da chi è a dieta, ma fa bene un po' a tutti. È ricco di fibre, acqua e sostanze benefiche che aiutano la digestione e favoriscono la diuresi. Si può consumare crudo ma anche cotto, sia stufato che cotto al vapore o in forma di zuppe. Ora vi faccio vedere come mondarlo e conservarlo, poi vediamo qualche idea insieme. La cosa più importante che cercherò di trasmettervi sarà che il sedano è un ortaggio praticamente senza sprechi. Le foglie si mangiano come le coste più esterne, non si butta niente. Ovviamente la prima operazione da fare è lavarlo bene, in immersione in acqua oppure sciacquando costa per costa. Si asciuga con un panno pulito e poi si può lavorare. Io divido bene le coste e le raggruppo tra esterne e interne, poi inizio a lavorarle. Taglio la parte terminale, quella vicino alla radice, tagliandone solo 1-2 cm al massimo. Questo sarà l'unico scarto che faremo. Poi divido le coste in gambo inferiore e superiore, con le foglie che divido. Li conserverò separatamente perché li userò per cose diverse, ma in realtà fra poco vi farò vedere come usarle entrambe allo stesso modo. Per ora tengo tutto ben diviso e finisco le ultime coste di sedano, poi vi spiego tutto. Partiamo dalle foglie che sono buonissime e super aromatiche. Non vanno assolutamente buttate, tornano comode in molte preparazioni. Intanto sono fantastiche nel brodo sia per il loro apporto aromatico che per il loro effetto chiarificante che rende più limpido il brodo appunto. Sono buone in insalata o come guarnizione per piatti a crudo. Si conservano bene in frigo in un contenitore con un panno umido per diversi giorni, anche una settimana. Si possono anche tritare e usare come fossero prezzemolo. Sempre meglio tritarle all'ultimo, ma se volete farle in anticipo e congelarle si può fare. La seconda parte che andiamo a trattare è la parte più sottile della costa, quella che viene spesso buttata perché è verde o vuota internamente. Sicuramente questa non è la parte che vi consiglio per il pinzimonio, ma torna comodissima per treiti di sedano ideali da soffritto per spadellate di verdure o anche brodo, sia a pezzi che intera. Potete tagliarla e metterla in piccoli contenitori per il freezer, tenere in frigo per 3-4 giorni oppure conservare intera e tagliare al bisogno. Io faccio sempre un contenitore con questa parte del sedano, le bucce di carota e di cipolla. Ecco questa è la mia scorta per il brodo vegetale, congelo e quando ne ho bisogno uso. Ora invece veniamo ai gambi da pinzimonio, che scegliate sedano bianco più delicato o verde più aromatico, questa è la parte da pinzimonio, croccante e soda. Per conservarla al meglio è bene metterla in un contenitore ermetico con acqua fredda, cambiate l'acqua ogni 3-4 giorni e conservate il sedano anche oltre la settimana. Rimane croccante, fresco e la perdita di nutrienti è minima. Poi potete sempre usare l'acqua di conserva così vi fate un super smoothie pieno di nutrienti. Infine la parte più nobile per alcuni, ma non per me, il cuore. Io lo conservo per mio papà che lo adora, taglio la parte della radice e lo conservo in acqua come fosse un fiore. Rimane perfetto fino a una settimana. Ecco, sistemato tutto. Da un sedano ne sono venute di preparazioni. Ora invece vi faccio vedere come usarlo partendo dalla cosa più semplice, insalata di sedano. Fresca, leggera, saporita, un'insalata perfetta come accompagnamento a un piatto di pasta per completare l'apporto nutrizionale ma anche come contorno per carne e pesce. Potete anche arricchirla con altre verdure o ingredienti, per esempio fave, avocado, mais, anacardi. Provata l'altro giorno è buonissima. Oggi rimango sul semplice, faccio solo un'insalata di sedano. Taglio tutto il sedano da cima a fondo, foglie comprese. Sì, le dovete provare le foglie di sedano. Metto tutto in una ciotola, condisco con olio, aceto balsamico e un pizzico di sale. Poi preparo il pensimonio di sedano. Preparo la salsina, una citronette con olio, sale e succo di limone, ma andrebbe benissimo anche vinagrette, salsa allo yogurt o anche un mousse di ceci. Unisco il sedano, gambi e cuore e via in tavola. È anche carino da vedere, no? Ecco, in realtà queste che vi ho fatto vedere sono le mie preparazioni preferite che faccio ogni settimana in stagione col sedano, ma se ne potrebbero fare anche tante altre. Per esempio con le coste esterne si può fare la stessa cosa che vi ho insegnato nel video finocchio senza sprechi. Padellare con olio o burro, sale e via, un contorno velocissimo. Stesso discorso per le foglie, come abbiamo usato i ciuffi di finocchio per guarnire piatti, anche le foglie del sedano si prestano benissimo. O ancora, si può stufare il sedano nello stesso modo in cui ho stufato il porro nel video Cucino Senza Sprechi, oppure grattinarlo o completarlo con un bel tomino. E poi di idee ce ne sarebbero tante altre, ma lascio che siate voi a sperimentare. Sono ovviamente curiosa di vedere cosa preparerete, quindi se vi va scrivetemi qua sotto nei commenti o taggatemi nelle foto che pubblicherete sui social. Ricordate anche l'hashtag Cucino Senza Sprechi e non andate via prima di esservi iscritti, eh! Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!